Porti aperte alla comunità di Pesco Paganesi lontani da Pesco Pagano si è svolto nei giorni scorsi nel centro lucano al confine con la Campania uno degli eventi clou del primo raduno dei Pesco Paganesi nel mondo promosso dal comitato Pesco Pagano 2020 e realizzato in concomitanza con l'anno del turismo delle radici indetto dal Ministero degli Esteri. L'idea è di Antonio Zazzerini che da sempre ha avuto in mente il progetto di radunare tutti i compaesani sparsi per il mondo per fornire loro l'occasione di tornare a casa. In pratica l'obiettivo è ricambiare l'accoglienza che gli emigranti fanno trovare i compaesani quando si recano per esempio negli Stati Uniti, in Argentina, in Venezuela e in tante altre parti dell'Italia e del mondo. Se gli diamo l'occasione ai nostri emigranti loro ci vengono a trovare che c'è gente che ormai non ha più famiglia diciamo che ha una porta chiusa invece mettiamoci in condizione che questa porta va aperta dobbiamo accogliere e cercare di ricambiare quel minimo di accoglienza che ci danno a noi quando noi andiamo lì all'estero quando siamo andati all'estero basta dire che sei un lucano, che sei di Pesco Pagano e le porte si aprono dobbiamo cercare di fare la stessa cosa qua e soprattutto far capire ai nostri figli che abbiamo un'altra comunità di Pesco Paganesi che vive all'estero, c'è un altro Pesco Pagano fuori Pesco Pagano Nell'ampio programma ha durato quasi 15 giorni il primo appuntamento con l'incontro e la parata a cui hanno preso parte tutte le delegazioni estere lucane organizzato un picchetto d'onore e l'alza bandiera con le rappresentanze di tutte le forze dell'ordine delle loro associazioni e delle autorità locali e regionali poi l'evento finale con la prima grande tavolata dei Pesco Paganesi soddisfazione dal sindaco è stata una bellissima giornata hanno partecipato moltissimi stati con moltissime autorità sia civili che militari è stata una bellissima giornata Grazie a tutti.